La Regione Veneto con molto piacere vuole presentare la sua ultima iniziativa di campagna di comunicazione social che ha recentemente lanciato sui temi di pagamenti digitali. Perché presentiamo questa candidatura? Fondamentalmente per Tremoti, come abbiamo costruito la campagna, come l'abbiamo erogata e in un atto tutti. La campagna costruita sui temi di pagamenti digitali è stata definita assieme alla comunità dei comunicatori del Veneto, la rete dei comunicatori che costa più di 400 persone. Abbiamo fatto tre laboratori di co-design capendo le potenzialità, i punti di forza e le specificità di questa campagna. Grazie a questo lavoro di co-design con tutti i comuni del Veneto abbiamo definito una campagna che poi nei mesi di luglio-agosto abbiamo promosso attraverso i canali social, in particolare Facebook e Instagram. Una campagna prima basata sull'algoritmo di Facebook e poi abbiamo fatto il retargeting sulla base degli input che la prima fase ha determinato, una campagna che ci ha permesso di raggiungere più di 85.000 persone, più di 250.000 impressions, oltre 4.000 interazioni. Ma la cosa più sorprendente, che ci ha più sorpreso, è che queste interazioni venivano soprattutto dagli over 65. Abbiamo usato i canali social per promuovere i pagamenti digitali, soprattutto a un target che è considerato digitalmente escluso. Un aspetto per noi estremamente importante. Siamo fiduciosi della nostra proposta.